Fino ad adesso un allacciamento medio che era comprensivo fino a 10 metri di lunghezza costava circa 1.600 euro più IVA e ogni metro più di lunghezza c'era un costo aggiuntivo di 192 euro quindi per l'utenza è un risparmio che può superare anche 2.000 euro. Allacciamenti a costo zero alla rete del gas metano. Centria, la società di distribuzione gas del gruppo Estra, ha così deciso di abbattere i costi in numerosi comuni dei territori serviti. Estra ha deciso di investire nel metano perché veniamo dal metano, siamo il metano e crediamo che sia ancora per molti anni un vettore della transizione energetica. La campagna prevede l'applicazione di una tariffa a costo zero a tutte le richieste sulla rete di gas naturale servita da Centria. Il gruppo Estra ha inteso nel piano industriale investire ben 100 milioni di euro nell'anno 24 e 25 attraverso Centria che è la società del gruppo che si occupa di reti di distribuzione del gas. È un investimento importantissimo che ricade in provincia di Arezzo per un 22,5%. In particolare oggi proponiamo un'iniziativa sull'allacciamento gratuito. È previsto che per tutti gli allacciamenti sia sulle nuove metanizzazioni ma anche sulle reti esistenti sia abbattuto il costo dell'allacciamento che rientrano all'interno dei 20 metri dalla tubazione stradale e fino al diametro dei 3 pollici. Quindi in pratica oltre il 90% di tutti gli allacciamenti che andiamo ad eseguire saranno fatti a costo zero. Previsti anche sconti per le nuove richieste di estensione alla rete. Per quegli utenti che sono un po' lontani dalla nostra rete dove non è sufficiente fare solamente l'allacciamento l'azienda ha previsto di dare un contributo che è pari a 30 metri di costo di estensione della rete per ogni potenziale utente. L'adesione alla campagna promozionale potrà avvenire sino al 31 marzo 2025 e interesserà i 27 comuni della retino soci di Coingas. Basta fare la richiesta, sul nostro sito internet ci sono tutte le informazioni abbiamo messo a disposizione un numero di telefono anche con Whatsapp e il nostro contact center ai numeri che sono indicati sul sito e anche sulla nostra campagna.